Un fine settimana dedicato al Festival Città dei Bambini e dei Ragazzi. Sabato 12 Coreggia e domenica 13 ottobre Alberobello si coloreranno grazie alla creatività di bambini e ragazzi con i vari laboratori culturali, divenendone poi i protagonisti assoluti. Questa è la seconda edizione della nostra iniziativa ed è un appuntamento che è rivolto ai più piccolini e per una giornata, in questo caso due perché coinvolgiamo anche la Coreggia nella giornata del 12 e Alberobello nel 13 di ottobre la città diventa a misura di bambino e di ragazzo. Quest'anno abbiamo dato in là l'organizzazione dell'evento proprio con la relazione con Stila e Rice che è un'organizzazione non profit che ha l'obiettivo di fondare scuole nei paesi che hanno delle difficoltà economiche e sociali. Da qui parte l'idea della mostra Truth of Ice che è quello di riflettere sulla scuola, sulla società nei paesi del terzo mondo più svantaggiati. Intanto l'amministrazione comunale ha lanciato un avviso pubblico per la programmazione delle prossime iniziative su tutto il territorio di Alberobello. Sì, abbiamo aperto un avviso come facciamo da tradizione per tutti coloro che vorranno fare una manifestazione di interesse sugli eventi che andranno da novembre a marzo 2025. Quindi chiunque volesse può compilare un form, fare una proposta e illustrare quella che è l'idea e poi come si dovrebbe svolgere il tutto.